Ho iniziato un eliminatore che era 36, poi è passato i 16-10, è passato i 16-10. E' partita la prima parte minimale della categoria di Evi, in giro sprint, e' Carlo Appalco a prendere la testa del tubo per approfondire la prima tuba del circuito, e' partita la prima parte minimale della categoria di Evi, in giro sprint, e' partita la prima parte minimale della categoria di Evi, in giro, 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 in giro. E' kind la seconda? E' windows l'II, in giro, in giro, in giro, in giro, in giro, in giro. Non puoi tagli attacchiare eh! Dai, dai, dai! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.